Aiutiamoci carissimi amici ad accogliere questo suo messaggio ultimo del 2 di gennaio, mentre io lo leggo scorreranno anche le immagini del 2 di gennaio, di pochi giorni fa, durante il quale questo incontro di preghiera la Madonna ha dato questo messaggio che è stupendo. Ecco, vediamo le immagini sempre Miriana che vive questo momento, questo rapporto con la madre di Gesù, che le ha detto, cari figli, con molto amore e pazienza cerco di rendere i vostri cuori simili al mio. Cerco di insegnarvi col mio esempio l'umiltà, la sapienza e l'amore, perché ho bisogno di voi, non posso senza di voi, figli miei. Secondo la volontà di Dio vi scelgo, secondo la sua forza vi rinvigorisco, Perciò, figli miei, non abbiate paura di aprirmi i vostri cuori. Io li darò a mio figlio ed egli, in cambio, vi donerà la pace divina. Voi lo porterete a tutti coloro che incontrate, testimonierete l'amore di Dio con la vita e tramite voi stessi donerete mio figlio. Attraverso la riconciliazione, il digiuno e la preghiera, io vi guiderò. Immenso è il mio amore, non abbiate paura. Figli miei, pregate per i pastori che le vostre labbra siano chiuse ad ogni condanna, perché non dimenticate mio figlio li ha scelti e solo lui ha il diritto di giudicare. Vi ringrazio. Ecco, carissimi amici, è un messaggio, come sempre, semplice. Io spero per me, spero per voi che non ci stanchiamo di accogliere questi messaggi così semplici, così essenziali, perché il troppo, e il troppo magari diventa complicato, stroppia, storpia, stroppia, storpia. Noi abbiamo bisogno di semplicità, abbiamo bisogno di essenzialità, perché è inutile che facciamo tanti giri di parole. Il nostro vero bisogno, il mio, il tuo, il nostro vero bisogno è un bisogno di amore, di sentirci veramente amati e trattati gratuitamente da figli. Il nostro bisogno è un bisogno di una madre che ci ama senza condizione, di un padre che ci ama senza condizione. Ecco, questi messaggi vengono veramente a darci ossigeno, a rigenerarci. Se però con semplicità anche noi li accogliamo. Cari figli, con molto amore e pazienza, cerco, ecco, tento di rendere i vostri cuori simili al mio cuore. Ecco, il mio cuore, la Madonna desidera che il mio cuore, il mio cuore di uomo, il mio cuore di cristiano, perché sono battezzato, specialmente il mio cuore di prete, sono prete, siamo preti, ecco, diventi sempre più simile al cuore suo, al cuore di Maria. Cerco, ecco, la Madonna, che è l'immagine più bella della Chiesa, madre e maestra, cerco di insegnarvi, io la madre, ma non tanto con le parole, non tanto con i documenti, che bellissimi i documenti della Chiesa, ma con l'esempio. Abbiamo bisogno di cardinali, di vescovi, di preti, di monaci, di monache, di pastori, no, che hanno il cuore simile a quello della Madonna, e dobbiamo pregare, carissimi amici. Cerco di insegnarvi col mio esempio, con l'esempio, l'umiltà, terra, terra, la sapienza e l'amore, perché ho bisogno di voi. La vera saggezza, oggi è l'epifania, questi re magi, questi uomini, veramente sapienti, non come noi, perché sappiamo quattro fisserie, che abbiamo studiato, ci conviamo di orgoglio, non sappiamo niente, se non conosciamo Dio, non conosciamo il suo amore, non sappiamo niente, questi uomini, veramente saggi, si inginocchiano davanti a questa scena, una donna, che ha partorito da pochi giorni, un marito, un papà, e questo bambino appena nato, questa è la vera saggezza, col mio esempio, l'umiltà, la sapienza, l'amore, perché ho bisogno di voi, non posso senza di voi, figli miei, secondo la volontà di Dio, vi scelgo, ecco, la Madonna non può scegliere, è secondo la volontà di Dio, che ci sceglie, secondo la sua forza, la forza di Dio, vi rinvigorisco, quante volte lei diceva a Gesù, suo figlio, tu, tu, figlio mio, sei figlio di Dio, ecco, questo le madri nostre ci devono dire, che siamo figli di Dio, e che dobbiamo vivere da figli di Dio, vedete com'è semplice, tutte queste complicazioni, che noi ci mettiamo, perciò figli miei, non abbiate paura, di aprirmi i vostri cuori, grazie.